Ambrosoli Miele e Caramelle presenta Dolce Mammina Partiamo Eh 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 Bilibom, 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 bilibom Bella, dolce, cara bambina Gacci tulla manina La 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 Bilibom, bilibom La 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 Eh 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 Con la bambina andiam A far la spesa andiam Eh 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 Compriam Eh 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 Bibom, bibom, dididì Con un soldino compriam, un regale intoniam, alla mammina, bella, dolce e cara mammina, la la la. Per un dolce pensiero, i dolci prodotti ambrosoli. Miele ambrosoli, così denso, così ricco di sapori. Con il miele ambrosoli, che dolce colazione e che merenda nutriente. Caramelle al miele, ambrosoli. Dentro c'è proprio il miele. Ed ora una dolce sorpresa. Dal buon latte, dal buon miele, caramelle, latte e miele. Latte e miele, ambrosoli, che botta!